Le conosciamo purtroppo come le stragi del sabato sera. Il fenomeno degli incidenti mortali è costantemente in calo da diversi anni, ma i numeri sono ancora allarmanti, soprattutto proprio in quella che viene definita la fascia maledetta, che è quell'oraria dalle 22 alle 6 tra sabato e domenica. A mettere in fila i dati dopo l'ultimo weekend di sangue sulle strade con la morte di 4 giovanissimi a Roma è l'ASAPS, l'associazione sostenitore della Polstrada, attraverso il proprio osservatorio. Nel 2016 gli incidenti sono stati 2730, 224 in meno rispetto al 2015, con 119 vittime, 35 in meno. Anche se si guarda i dati degli incidenti stradali dei tre giorni del fine settimana, per lo scorso anno i numeri sono ancora in calo, 832 morti, 58 in meno rispetto all'anno precedente. Stesso trend se si esaminano i dati generali del 2016. Lo scorso anno ci sono stati 1547 incidenti mortali, con 1665 persone decedute, il 5% in meno rispetto al 2015. In un anno, dice ancora l'ASAPS, i conducenti controllati dalle forti dell'ordine nei soli sabato sera, con etilometri e percursori, sono stati 232.952, il 5,1% dei quali è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico. Si tratta in particolare di uomini, solo una su dieci è donna. Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state invece 391. Guardando poi alle violazioni, le più diffuse sono quelle legate all'eccesso di velocità, in misura inferiore ma in forte crescita, i verbali per l'uso del telefonino al volante.